Ricorre oggi, 14 marzo, l'anniversario della nascita di padre Leone Deon, fondatore della Congregazione dei Sacerdoti del Sacro Cuore, noti come Deoniani. In tale circostanza, il superiore generale padre Carlos Luis Suarez Codorniu, insieme al Consiglio Tutto, ha diffuso una lettera indirizzata a tutti i membri della congregazione della famiglia Deoniana sul tema consacrazione, ministero e comunità, il nostro cammino. Un estratto nel servizio di Luca Ciciriello. Ricorre oggi, 14 marzo, l'anniversario della nascita di padre Leone Deon, fondatore della Congregazione dei Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù, noti come Deoniani. In tale circostanza, il superiore generale padre Carlos Luis Suarez Codorniu, insieme al Consiglio, ha diffuso una lettera indirizzata a tutti i membri della congregazione e della famiglia Deoniana. Nella lettera, il superiore generale ricorda come il ministero di padre Leone Deon sia per la Chiesa un continuo imparare a camminare con gli altri e per gli altri, con la costante volontà di comprendere e vivere il volere di Dio. Padre Deon, ricorda padre Codorniu, non si limitò a vivere quel clericalismo conformista che anche oggi, come allora, è sempre in agguato. Cosciente dei meriti e delle limitazioni della Chiesa in cui egli viveva, Leone Deon è sempre stato attento alle sfide politiche, sociali ed economiche di quei tempi e giunse in tutto questo tempo alla consapevolezza della sua chiamata alla vita religiosa. Un viaggio interiore, il suo, che gli ha permesso di integrare vocazione, ministero e comunità. Solo dopo molto pregare e discernere, incoraggiato da molti uomini e donne illustri del suo tempo a cui seppe rivolgersi con umiltà per chiedere consigli e orientamenti, capì che Dio lo chiamava a condividere con altri un cammino di fede ispirato alla contemplazione attenta del cuore trafitto del Salvatore. Da lì nascono gli oblati sacerdoti del cuore di Gesù. Il nostro itinerario personale e la nostra consacrazione religiosa, dice ancora il Superiore, acquistano maggiore identità e significato nella misura in cui ci addentriamo nell'itinerario vocazionale di Padre Deon. Noi oggi, che viviamo la nostra consacrazione a Dio attraverso la vita religiosa come preti o come fratelli, dobbiamo continuare ad accogliere come linfa indispensabile il patrimonio carismatico che ci è stato dato. Siamo coscienti che in non poche occasioni il buono sviluppo del nostro itinerario vocazionale è influenzato dal modo in cui rispondiamo alle necessità, compiti e compromessi che ci giungono dalla realtà ecclesiale, dalla società o anche dai nostri interessi strettamente personali. Davanti a tali urgenze dobbiamo stare attenti affinché la nostra identità non sia ridotta a una semplice funzione ministeriale o professionale. Se così fosse, rischiamo di privare la Chiesa della vocazione genuina che abbiamo ricevuto per vivere la nostra vita religiosa. I religiosi, ricorda il Superiore Generale, sono chiamati ad essere nella comunità ecclesiale e nel mondo testimoni artefici di quel progetto di comunione che sta al vertice della storia dell'uomo secondo Dio. Innanzitutto, con la professione dei consigli evangelici, che libera da ogni impedimento il fervore della carità, essi divengono comunitariamente segno profetico dell'intima unione con Dio. L'augurio del Superiore Codornio è che il carisma deoniano sia sempre contraddistinto dall'annuncio del Vangelo.